Ciao a tutti, sono Contra e oggi sono qui a presentarvi Shank 2, un gioco picchiature a scorrimento è la prima volta che gioco quindi non so cosa va di contro inoltre è un video commentary live quindi non ho preparato nessun discorso o altro gioco e basta quello che succede è succeduta c'è qualche problema chi state cercando? mi è venuto qualche dubbio ah 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 non si fa shank arrabbiato ok mi sono bussato della 360 però sto giocando con il pc quello che uso il pad 360 perchè con tastina mi trovo poco soprattutto con questo gioco andiamo abbastanza appunto questo gioco mmm granate ahhh cia faltò schiappe Sei morto Falto Addia la testa Ma cosa vuole fare Comunque il gioco Si trova su Steam E ve lo consiglio veramente Soprattutto se Se vi è piaciuto il primo Sperando Che sia lo stesso livello Ma quanto al gameplay E' identico Quindi per quello di Steam Ah Addia Purtroppo i giochi sono In lingua inglese Non c'è Italiano Italiano Strike 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 Vivita Go 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 Capriola Fuma fuma V per caricare Rilascio Goodbye Saluta la signora Già In televisione ci sono io Oh no Si Sono io Presa Poi sono uscito Inoltre questo è il mio primo video commentary C'è Ne ho fatto in passato Solo che questo E' il primo che pubblico Sul canale Poi evidentemente se il video Poi evidentemente se il video piace l'utenza ne farò altri Sempre se piace No Andiamo avanti Nooo Mi sono giocato Nooo Ah Ah Il fuoco Ok Non va Come l'ha fatto Non voglio morire Ok Già Vediamo le scale Capriola Oh Mi volevo morire Infiltrati Un metro fumatore Un metro fumatore Ok Mi rimane poco di vita Nooo Brantà La canata Ok Il gioco è fatto Il gioco è fatto Il gioco è fatto Un mini boss Cosa vuoi Ah Ok Non so Vieni vieni Buon Natale No 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 E' morto già E' morto E' morto Anche del risco Andiamo Verso il futuro Salviamo Grazie a te Molto sega Mi sembra Custantissimo Ok Ok Non si fuma Per questo Ti uccido No no Nooo Mi fa Ok Ah che mi rimane qua Addio Tu con la pistola Devi Muot Gire Ecco così Oh Anche tu Grazie Grazie Ciao Ciao Ciccioni 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 Sì 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 almeno spero eh? già già no 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 dai va ci riuscirò mai? devo creare tre episodi solo per questa scena ok ah ecco devo leggere i tips addio guardatevi sempre di leggere i suggerimenti vieni vieni saluta salutami oh haha no no dai qui ok troviamo uno muori 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 ok adesso nessuno più mi ferma massacro massacro totale massacro totale ok scusate per il disagio granate granate mmm muori muori padella muori 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 una granata di boss a quanto pare si ultimo boss giocare uno no ma stiamo facendo ma l'ha detto ma l'ha detto c'è tensione finso al testa 1, 2, 3, 4 Vieni, vieni Cosa? Prima Scognozzi Schiappe Devi morire Per la fede Ok Mori, muori, muori No Ok Hai vinto E attacco Alzati, alzati Finisce attacco A me lo vedo Ancora no No No, 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 no Oddio, quando mi sento pippa Mori, mori Ehm, mori Bella morte Cosa succederà nel secondo capitolo Ecco a voi Ehm, albust Ehm, oss Cosa succederà nel co'?", Cosa succederà nel Megatlo Ehm, che vuoi Non c'è, non c'è Ehm, la cosa succederà del marco Ehm, non c'è 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 Ok, il primo capitolo è finito